Spendere prima i soldi già finanziati e poi i nuovi. Questa è l'intenzione del Consiglio regionale calabrese in merito ai fondi europei. A breve infatti scadranno quelli del programma comunitario 2007-2013 per far spazio a quelli della programmazione 2014-2020. Finora non sono stati spesi tutti i soldi a disposizione e dunque si rischia di perderli in corso d'opera. In questa fase a cavallo tra le due programmazioni l'assessore regionale al bilancio Giacomo Mancini ha messo in campo delle attività di laboratorio per avviare una fase di confronto in modo che i soggetti territoriali siano maggiormente informati e pronti a cogliere queste opportunità valorizzando soprattutto i successi raggiunti dai partenariati dei PISL. Sulla nuova programmazione la Calabria avrà a disposizione 11 miliardi di euro, una cifra enorme. Noi la vogliamo utilizzare coinvolgendo tutto il territorio, spiegando soprattutto ai sindaci e agli amministratori locali le opportunità, le procedure, i percorsi che devono seguire per non farsi sfuggire questa grande occasione. Per questo abbiamo aperto il laboratorio Calabria Europa 2020, per questo oggi svolgiamo questo workshop e indichiamo le collaborazioni che i singoli municipi possono definire con le istituzioni europee. La sfida è troppo importante, la Calabria la vuole vincere. Per l'agricoltura invece 57 milioni di fondi FESL devono ancora essere divisi tra 400 aziende, secondo il piano di sviluppo rurale presentato ieri mattina alla Mezzia Terme dall'assessore regionale Michele Trematerra. È un incontro che possa e deve servire anche a poter dare il supporto necessario alle aziende per poter fare nei tempi e nei modi previsti dal bando gli investimenti necessari. Tenga conto che siamo alla fine della vecchia programmazione, vorremmo partire con la nuova programmazione, quindi con i bandi, già a ottobre del 2014, quindi ci vuole celerità. E quindi siamo anche qui per dare il supporto necessario a tutte le aziende, con le domande che magari verranno dalla stessa azienda, per rendere più efficace ed efficiente possibile la spesa di questi 57 milioni di euro, che sono un importante tesoretto che avranno a disposizione circa 400 e più aziende calabrese. Grazie a tutti.